Ave Maria e benvenuti al terzo incontro per conoscere meglio la vita di San Charbel. Stiamo leggendo e commentando il testo di Monsignor Galofalo, Il profumo del Libano. Abbiamo visto nelle scorse puntate come San Charbel, dopo una vita semplice, serena e già da piccolo, dimostra una forte tendenza alla preghiera e alla solitudine. All'età di 23 anni lascia tutto, fisicamente, di buon mattino, senza che nessuno lo veda e si reca presso il monastero in cui si trovava già suo zio. In questo monastero comincia appunto un periodo di noviziato, un noviziato che sarà abbastanza disciplinato nell'anima e nel corpo, un addestramento vero e proprio con un'implacabilità di regolamento militare. Il novizio era come privato della parola per impedirgli ogni precipitazione, doveva tacere davanti ai superiori e rispondere solo se era interrogato. Alla mensa comune aveva il posto a una tavola distinta e quando gli passava davanti il superiore doveva alzarsi e inchinarsi a occhi bassi e con le mani incrociate sul petto. Se meritava un rimprovero doveva gettarsi subito in ginocchio ed ascoltare in silenzio. Avremo occasione di notare che Saint Charbel resterà un eterno novizio, ripetendo per tutta la vita questi atteggiamenti e questi gesti che non riuscirono in lui a diventare un meccanismo o un'abitudine. Ogni giorno il maestro dei novizi iniziava i giovani ai segreti della preghiera mentale e vocale, li istruiva nella dottrina cristiana, spiegava le regole e gli statuti dell'ordine, il modo di confessarsi e di comunicarsi con frutto, di recitare degnamente l'ufficio e di prendere parte devotamente alla liturgia che doveva essere il grande compito, l'opus magnum del futuro monaco. Oltre alle pratiche di pietà e di disciplina, i novizi dovevano anche lavorare, lavorare nei campi insieme con i contadini addetti al monastero e alle sue proprietà. Nei campi dovevano essere come l'ombra degli alberi, senza luce e senza voce, in silenzio con le palpebre abbassate. Il convento di Maifouk era in mezzo al villaggio, circondato dalle casse dei contadini, tra coltivazioni di gelsi e allevamenti di bacchi da seta, che fino a tempi recenti costituivano la maggior parte delle attività dei contadini libanesi, la principale risorsa del paese, quindi la coltivazione dei gelsi e l'allevamento dei bacchi da seta. Questo è fondamentale perché adesso ci sarà un episodio che colpirà molto Saint-Charbel e che lo farà decidere di cambiare monastero. Ai novizi di Maifouk era affidato il compito di spogliare i rami dei gelsi dalle foglie e dalla scorza, mentre in un luogo separato e distinto le mogli e i figli dei contadini curavano i bacchi. Accadde una volta che una ragazza, colpita dalla serietà e dalla modestia del novizio di Beka Kafra, volle metterlo alla prova e tentare di sciogliere quel ghiaccio. Per due volte di seguito la ragazza fece un gesto apparentemente molto innocente, molto scherzoso, ma che sull'animo del novizio Charbel ebbe un effetto veramente forte. Per due volte questa ragazza prese la mira e gli gettò sulla faccia un baco, volendo così costringere il giovane monaco, il giovane novizio, a venire fuori dalla sua corazza di imperturbabilità e di silenzio. Il novizio fu sconvolto da quel gesto forse innocente, forse carico di sottintesi. E cosa accadde? La notte stessa, senza dir nulla a nessuno, sgattaiolò furtivamente dal monastero per raggiungere, dopo ben quattro ore di cammino verso sud-ovest, alle prime luci dell'alba, il convento di San Marone ad Annaia. Nel registro del convento di Maifouk restò scritto. Entrò per la prova Youssef di Beka Kafra, fu chiamato Charbel nell'agosto del 1851. Si è sfratato. Per quest'ultima frase è usato un verbo arabo il cui significato può anche essere quello di un abbandono volontario del monastero da parte del novizio. Una nipote di Anna, il fratello di Charbel, nome maschile in questo caso, racconta che quando il nonno venne a sapere delle mormorazioni di Beka Kafra, dove corriva la voce che Charbel si era sfratato, ne provò una grande pena, ma più tardi, con grande sollievo, si rese conto che Charbel aveva preso la fuga da Maifouk per il desiderio di sottrarsi con maggior sicurezza al mondo. Un'opportunità che Maifouk sembrava negargli e che il monastero di Annaia, isolato e lontano dalle case dei contadini, largamente gli offriva. Quindi Charbel si rende conto che Maifouk non può avere quella solitudine, quella dedizione al lavoro, alla preghiera, al silenzio, desiderava. Un gesto così semplice e così innocente ferisce la sua sensibilità e gli fa capire che ha bisogno di qualcosa di più isolato. Quella fuga di Charbel fu un colpo di testa, indubbiamente, che però dimostra l'estrema sensibilità del novizio al pericolo, dovunque si annidasse e in qualunque modo si esprimesse. Un colpo di testa provocato da sentimenti di cui nessuno di noi possiede la chiave e vanno giudicati alla luce della grazia divina. Aveva riempito la vita di Charbel e voleva plasmarlo secondo la volontà di Dio. Quel cesto sbarazzino della fanciulla di Maifouk poteva dire a Charbel tante cose alle quali chiunque altro sarebbe stato sordo. Egli può aver giudicato che l'edificio della virtù che stava tirando su giorno dopo giorno, pietra su pietra, potesse all'improvviso crollare, trascilandolo nella rovina. E da una parte il Vangelo, con immagini che un orientale come lui poteva apprezzare assai meglio di noi, dice se la tua mano ti scandalizza, tagliala. Se il tuo occhio scandalizzarti, cavalo. Meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che essere gettato con due occhi nella genna. Quindi una scelta radicale. E per comprendere certe dolcissime asprezze, certe imperiose esigenze della parola di Dio ci vogliono i santi. Gli altri, noi, troviamo modo di offuscare certi testi del Vangelo, di accomodarli, di smussare certe asperità dei precetti di Cristo. E la virtù si misura proprio su queste altezze vertiginose della grazia e si abbandona senza riserve agli slanci dell'anima che viene irresistibilmente sospinta dall'amore di Dio. Allora il superiore di Annaia dovette accogliere, rabbugliato e in allarme, quest'uomo che fuggiva da Maifuk. Ma dopo aver ascoltato le sue motivazioni, si rese conto che c'erano buoni motivi per accettarne le ragioni. Il superiore era un esperto di anime e si rese conto che non era così un'impennata giovanile di un monaco ribelle, ma era un gesto profondo che meritava considerazione e protezione.